Allora, Filippo Laporta, ricorda di essere uscito da un cinematografo vedendo un film tratto da un libro e aver detto, beh, sono proprio soddisfatto. Sì, qualche volta mi è successo. Per esempio, quando ho visto Il gatto pardo, che è il film di Visconti tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa, io credo che in quei casi c'è un'affinità proprio tra l'autore, tra il regista e lo scrittore. Visconti e Tomasi di Lampedusa hanno delle cose in comune. Diciamo che sono due aristocratici, Visconti poi è diventato comunista, mentre Tomasi di Lampedusa no, era invece molto conservatore politicamente, ma non importa, in tutti e due c'era comunque una critica della modernità, formulata magari in modi diversi, ma c'era una critica della modernità e quindi del cosiddetto progresso e quindi di quella modalità lì con cui il risorgimento poi si è affermato. Che è successo? Parla! Eccellenza, vogliate perdonare, è stato trovato un soldato morto nel giardino. Che cosa? Ci sono dei gravi disordini giù in città e dappertutto. Hanno portato questa lettera da parte del duca di Malvica. Dice che è molto urgente. Poi un altro caso, perché adesso penso proprio ai nostri più grandi registi, anche quando ho visto Fellini Satiricon ho pensato che Fellini reggeva il confronto con l'opera di Petronio e anche in quel caso c'è una qualche simpatia e affinità tra i due, perché ovviamente potrà sembrarvi antistorico parlare di linguaggio barocco di Petronio, ovviamente, però in realtà c'è un elemento che ci può riportare al barocco, cioè un gusto dell'eccesso, un gusto della varietà, della varietà del mondo. E direi che Fellini, da questo punto di vista, ha fatto un film davvero imbevuto dello spirito di Petronio, per quanto lo abbia poi, diciamo, trasformato, rielaborato, ma non importa. Ecco, questi sono i primi due casi che mi vengono in mente. Fate conto di essere invitati al mio banchetto funebre. Mangiate, bevete e ricordatevi di me. Chiamate i suonatori che intonino una bella musica. Per un romanzo, sottolineo che s'aspetto, è fondamentale l'atmosfera. Nel suo saggio sul romanzo, Ortega y Gassé, il saggista e scrittore spagnolo, ha detto che un romanzo, il genere del romanzo, si caratterizza soprattutto per il fatto di creare un'atmosfera. A volte capita che lo spirito di un romanzo sia... lo spirito di un romanzo viva di più in un film che non nasce come trasposizione di quel romanzo. Vi faccio subito un esempio. Pensate a 1984 di Orwell. In realtà è uscito un film che si intitola proprio così. E dovrebbe essere la fedele, quasi un po' piatta trasposizione del romanzo di Orwell. Ma il film è brutto, non ricordo neanche i registi, è un film brutto e mediocre. Ma dov'è che invece vive lo spirito del romanzo di Orwell? E' un film che si intitola Brasil, di Terry Gilliam, con una serie di attori, adesso ricordo soltanto Robert De Niro. Ed è un film che ha proprio quello spirito un po' anarchico, ha quella fantasia straordinaria del romanzo di Orwell. Quindi è buffo. Orwell lo troviamo lì dove non ce l'aspettavamo. Cioè la cosa importante, come dicevo anche prima, è cercare di tradurre lo spirito di quel romanzo e di inventare un linguaggio che sia un po' l'analogo del linguaggio dello scrittore. In quel caso Terry Gilliam, nel suo Brasil, ha usato un linguaggio, nello stesso tempo un linguaggio di grande lucidità razionale, ma anche un linguaggio di forte immaginazione visiva, che a me sembra l'analogo, l'omologo, del linguaggio che ha usato Orwell in 1984. Perché la stanno cercando? Ecco fatto. Mi dia il pennello? Subito. Allora. Mi dice per quale ragione... Senta, non mi sembra giusto che io non le paghi questa riparazione. Oggi noi sappiamo che ci troviamo di fronte, mediamente, a uno spettatore distratto. Perché i film vengono fruiti in un modo diverso, a casa, con il DVD, oppure perfino sul cellulare. Voi immaginate vedere, non so, Psycho di Hitchcock mentre si aspetta l'autobus sul proprio videocellulare. Ora, questo cambia tutto davvero. Cioè, lo spettatore è disposto a dare soltanto un'attenzione distratta. La sua è una fruizione distratta, parziale. Ora, questo che significa? Che chi poi fa i film, chi fabbrica i film, deve tener conto di uno spettatore così. E allora cosa fa? Deve fare dei film pieni di effetti speciali, inzeppati di effetti speciali, pieni di tutte scene madri, pieni di tutti di gran finali. Perché bisogna catturare e tenere sempre destra l'attenzione di questo spettatore distratto. Il problema è tutto qui. Bisogna risvegliare la sensibilità atrofizzata dello spettatore di oggi, che vede i film, ripeto, sui nuovi supporti, sui nuovi supporti tecnologici. Questo accade anche in letteratura, paradossalmente, perché in letteratura ovviamente non abbiamo i supporti tecnologici, però in letteratura succede che il lettore, anche lì, il lettore di oggi è un lettore meno concentrato di una volta, più distratto e questo fa produrre dei romanzi, anche lì, pieni di effetti speciali, zeppi di cose, di sensazioni, di cose limite, di scene madri, perché bisogna tenere sempre destra questa attenzione.